Ciao ragazze e ragazze, una piccola precisazione che mi capita spesso di fare in molte conversazioni che credo dovrebbe essere ovvia ma probabilmente non lo è così tanto. Non si tratta dell'interesse nell'investire nelle piattaforme social perché le piattaforme social sono belle, sono giuste o sono, come dire, diciamo ci affezioniamo a una particolare piattaforma come per esempio LinkedIn, Facebook, Twitter e quindi siamo partigiani o TikTok di quella piattaforma, quanto più di capire dove sta l'attenzione. Negli anni 80 nessuno si sarebbe mai sognato di non essere presente sulle pagine gialle, negli anni 60 chi poteva fare pubblicità sulle tv e in realtà poi sui giornali era chi aveva più vantaggio dalla visibilità, quindi non capisco come non si possa vedere che in realtà è un gioco di attenzione, non è un gioco di strumento. Se domani non ci fossero i social dovremmo trovare un altro posto dove esserci tutti e dove far convogliare l'attenzione di tutti e state sicuri che lo troveremmo. Quindi a tutti quelli che hanno sfiducia nei confronti di questi strumenti, beh, bisogna farseli andare bene e sfruttarli al meglio, la differenza, l'alternativa più che altro è rimanere lì dove siamo sapendo che però l'attenzione non è su di noi e l'attenzione per un brand è molto importante, addirittura direi fondamentale. Cosa ne pensate? Stop whining!